Allora... La fai facile... Allora... Aku new... siamo da vicini wow che ansia e caspita sono circondato però sto facendo molto chiasso vero? no 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 cavolo che ansia oh oh allora dobbiamo tornare ovviamente non ci fanno andare qui sennò sarebbe troppo facile ma proviamoci non ci fanno andare ok sembra che io mi sia allontanato abbastanza ma finalmente mi sono allontanato abbastanza perché qua non posso scendere forse posso rischioso molto rischiosa no no ok sono fuori pericolo wow e niente e niente adesso dobbiamo scendere qua attraversiamo il fiume sperando che sperando che sicuramente no sperando che un corno ovviamente devo fare così così e devo passare tutto lì in mezzo ok ok non sapevo ci fosse il cambio guardia molto interessante che ansia poi poi è stato molto ansioso perché no 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 perché lì c'era l'inceneritore se esplodo mentre c'è dove c'è l'inceneritore poi non posso più incenerire i corpi mi serve incenerire i altri corpi come faccio è un bel casino prima di giocarcela più safe possibile allora posso riposare un po' massaggio alle spalle ok la musica è fantastica continuerò a dirlo sicuramente per tutto il gioco se continua così raccogli roba troppo vecchia per essere raccolta come tipo questo mi serve qualcosa per raccoglierlo sicuramente lì ci sono di quelle vabbè corri qua ci sono quelle specie di bruchi no? cripto 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 ok ciò dovevo anche pisciare ciò dovevo anche pisciare ciò dovevo anche pisciare liquidi liquidi sono ancora a posto un organismo vivente sconosciuto prima del death stranding se si consuma un cripto bionte si rigenere immediatamente una piccola quantità di sangue se necessario se ne possono mangiare diversi insieme si può si può tenere da parte per consumare in seguito pare che abbia un sapore particolare il sangue è ok mettilo dentro Sam allora posso riposare ma riposo una volta arrivati là vabbè più o meno ci siamo se non succede qualcosa adesso siamo arrivati dai eh si bisogna stare attenti cos'è quel rumore? questo ve l'ho tosto ok ok ovviamente così si corre molto più velocemente però a discapito dell'equilibrio ok ci siamo dai sembra sia andato abbastanza bene allora io voglio provare a dormire per vedere cosa succede mi manca una barra mi manca una barra mi manca per te è il momento di fare una pausa mi manca una barra 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 Usa la torre di guardia eh? Ah beh... Interessante. Allora... Dimmi... Sto arrivando. Eh... come si faceva per andare in prima persona? Ok. Rimuovi. È anche un buon metodo per togliere gli indicatori questa cosa. Ok. Da cui non dovrai tornare. No. Scusate. Ma questo BB è stato preso sui limiti. Questo pozzo è l'unica opzione. Sam, si riuscita. E vieni a l'office Presidente. Dobbiamo parlare. È stato usato... Qui negli... Mmm... Non penso che li cambiamo, non avrebbe senso. Se non l'avrebbe buttato. Se fosse stato un oggetto così... Come? BB. Non ti preoccupare. È ok. Sì... Ho sempre con te. Ho sempre be con te. Si vediamo il sole è... Il giorno sènescino... Il giorno sènescino... Tollo se sarebbe... Non sia una notazione... Non sia una notazione... ... Un coricino Che ho fatto tre chilometri Il livello connessione è salita di un bel po' Più tre Il livello corriere è dieci Sam, pensavo che ti ho detto che DOOM e BB erano una combinazione pericolosa Non scuolta Non scuolta Come tu dici, dovrei guardarlo Dio i miei riguardi al Presidente Porti, mi saluta il Presidente? Ma... Sta facendo finta che sei ancora vivo? Non scuolta Ha, c'è l'ora di brutto È quasi tempo di andare, Sam Qui è... È un sogno Episodio 2, Emily Chissà quanti episodi ci sono Saranno una ventina Presumo Vigore è completamente recuperato Ah, ok Quindi è possibile che ci siano anche certe Sono certe missioni in cui io usi molto vigore E devo affermarmi per riposare Wow Mi ha fatto il ghigno No ma è fantastico Ispezione a modellini Vediamo Ok Calmo Usa il lavandino Esegui azione Scatta foto Wow Fai una doccia Usa il bagno in piedi In costruzione C'è una volta che abbiamo bisogno di una doccia Ci puliamo Eh cavolo Neanche in doccia Mi lasciate in pace Per favore For fuck's sake Non c'è niente private Ani more Oh No Except for taking a shower And going to the toilet That is I take it You were getting yourself cleaned up Good Come to the president's office As soon as you're done She's waiting for you Bella 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 C'è Bella C'è Bella C'è con noi, ma il suo legame ha una chance di vivere. Sam, ascolti a me. America, il ricostruzione, il suo sogno non è morto. Non voglio ascoltarlo. Questo è il viso della nostra nuova speranza, nostra nuova America. Non ho clonato. Homilie. No. Ma la sorella, quindi? Eh sì. Questa è stata fatta. Questa è stata fatta. Sì. Ok. fu fuori a sud. L'ho portato a passare i cratoni nel territorio di BT. L'ho guardato sicuro mentre l'hanno cercato per i salvatori. Non c'è mai l'ora, Mr. BT. Vi ho venuto un po' di più. Ci abbiamo convinto comunità dopo comunità di joinere la UCA. Ci siamo lasciati un'azienda per aiutare i nostri amici per aiutare. Ci sono tre anni, ma abbiamo deciso di farlo all'inforzare all'inforzamento in Città. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah, but then everything went to hell. The team was wiped out, and Amelie was taken. Taken. I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenau City. But that's what our keepers are saying, at least. They want the UCA to leave and be. Amelie's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homodemons. Militant separatist group. We run Edgenau City. I've heard of them. A bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. Wow. You think the suicide that took out Central Nod was one of theirs? Could be. They're extremists like the demons everywhere. Plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force. By men who tell them what to do. Who take away their freedom and put them in shackles. Would you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together. To form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west. And finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work. Setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a Cupid. Okay. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the Cupid west, Sam. And reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenau City, find Emily. And bring her home. And then, after that, I'll take over the presidency and carry on mother's work to save the country. Fino da allora. Segretto. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. no, non sono un strand no, non sono anche parte di questo outfit tutti si vedi a questo non sono mai coinvolto con te o con qualcuno o con qualcuno sempre di nuovo wait vedete vedete, non sono ancora qui same come si è sempre stato Sam Sam hold on stop listen to me America needs you both of you covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again round and round it goes connect, reconnect it's not that simple all right, all right Sam just take it easy I get it you don't have to commit to anything now why not get some rest good idea we all need our sleep leave it too long and you're liable to reconnect with the other side the necessary maintenance has been completed ah, la sistemato, grazie for your benefit you can use it again for once it would seem that dooms and bb's are a good combination or perhaps the two of you have something one another you can use it again keep it easy on